E' un'azione anche di Kung Fu, come fa? C'ha la mitica maglietta di Price Junior, iniziamo tutto da là. Che viva Gang, un applauso a Gang. Poi le faccio, avevo anche maglietta. Che hai preparato? Al canto Massimiliano D'Ambrazio. Siamo tanti quanti i dischi dei Gang. All'angoletto. Hai scelto l'angoletto? Sì, sì, a donna dell'Ottocento. Modificato. Modificato. I miei guardi con sta faccia. E mi ha già sentito. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.